stavo leggendo le notizie sulle cripto monete visto che sono una cosa che seguo molto sono anche minor da 3 4 anni e quindi leggo spesso le notizie allora su coin desk sei giorni fa oggi il 19 settembre 2007 quindi il 13 12 in realtà invece questa notizia qua di jamie diamond che sarebbe poi il presidente diciamo della jp morgan una delle banche più potenti al mondo culo e camicia con la famiglia rockefeller e la federal reserve allora il 12 settembre 2017 c'è la notizia di questo jamie diamond dice bitcoin è una frode benissimo cosa che fa ridere e che ogni due tre mesi o quello che se ne escono con questo cazzate qua come per esempio questa notizia qua del 6 marzo 2017 che dice federal reserve world on digital currency quindi avverte che sono un rischio a parte che la cosa fa ridere perché stanno studiando loro stessi la loro block chain è una cosa risaputa e poi si sono dichiarati spesso fan delle cripto monete insomma sistema che poi tra l'altro gli verrebbe molto comodo comunque cosa succede andiamo a vedere un attimo il prezzo quindi abbiamo detto che oggi è il 19 e siamo qui a 4 mila dollari il 12 settembre bitcoin era diciamo a 4250 e rotti se ne esce questo jamie diamond con questa gran cazzata cosa succede da lì alle 11 del mattino del 15 bitcoin scende a 2009 e 81 quindi facendo due col quali fatti male facendo finta che erano 3 mila dollari ha perso 1.350 dollari nell'arco di un paio di giorni benissimo adesso al giorno attuale che abbiamo detto il 19 settembre è già risalito fino a 4 mila dollari quindi di nuovo in pratica ha preso più di mille dollari in un paio di giorni allora sono andato su flat click in questi giorni lo sta seguendo cos'è flat click è la mappa degli scambi bitcoin dei trading bitcoin cioè fa vedere in tempo reale dove vanno a finire i bitcoin ecco questa qua praticamente bene e quindi ho registrato questo piccolo video di cui adesso ne metterò un pezzo che dimostra che li stanno comprando tutti gli stati uniti in questi giorni un bombardamento della madonna per esempio il pezzo che ho visto io e anticipo che ho perso nel video il pezzo migliore comunque mi sembra che erano oltre 700 bitcoin in un minuto si 700 erotti bitcoin in un minuto lo sto seguendo ancora adesso è arrivato a 2005 poi ognuno farà le sue considerazioni intanto adesso mando un piccolo pezzo del bombardamento e Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quindi un po' per quello. Come avete notato nel video però la Cina non sta acchiappando un cazzo, mentre gli Stati Uniti appunto in questi giorni di notizie se li stanno prendendo e quindi fa pensare che non pensino proprio che è una frode. Anche perché non sono certo rincoglioniti questi qua voglio dire. Ecco un'altra cosa che fa ridere come vediamo qua è che loro dicono così però il 12 gennaio 2017 se ne escono con la notizia Fedcoin the US will issue a currency that you will use. Cioè che i federal coin o i Fedcoin saranno in pratica la moneta ufficiale degli Stati Uniti, la criptomoneta e currency. Anzi perfetto quindi c'è un dualismo della madonna dicono una cosa ne arrazzano un'altra non sanno neanche loro. In realtà sanno bene però insomma ecco però la cosa che mi chiedevo ecco è questa qua cioè perché se noi andiamo a vedere la distribuzione nei soldi del mondo con una semplice ricerca come sono distribuiti i soldi nel mondo su Google ovviamente eccoci qua. Allora andiamo a vedere un po' come sono distribuiti senza entrare troppo nei dettagli ecco i Bitcoin in pratica sono al primo posto che in realtà è l'ultimo perché sono solo 5 miliardi di dollari in circolazione l'argento persino l'argento ne ha 14 miliardi per dire niente ecco per capirci il bilancio della Fed è di 4500 miliardi di dollari. Quindi ecco la cosa che c'è un po' da chiedersi è sì per uno normale in una situazione economica normale come me o come la maggior parte delle persone può essere una speculazione della madonna no? 700 Bitcoin in un minuto ammazza 4000 dollari l'uno e cosa sono 2800 no scusate 4000 dollari valuta per Bitcoin sono due migliori 800 mila dollari di acquisto in un minuto. Se stiamo a vedere che il guadagno mal contato che cos'era un 25 30 per cento sono soldi insomma ecco però sono soldi per me o per voi ma persone che hanno 4500 miliardi di dollari 5 miliardi rappresentano una percentuale minuscola. Quindi c'è da chiedersi come mai c'è perché fanno queste speculazioni ecco io credo che sia più una cosa di 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 conquista della centralizzazione della moneta piuttosto che una speculazione finanziaria. In ogni caso ho notato che queste mosse vengono fatte più volte dell'anno e se avessi avuto dei soldi da investire questa volta ci avrei fatto trading volentieri insomma non che sia così sempre facile la situazione però questa è già la seconda volta che è noto che mi pare facciano giochetti del genere insomma. Tutto qua quindi il video si basa su questo è un semplice ragionamento su dove vanno a finire le criptomonete come si muove il mercato delle criptomonete che dovevano nascere per per spodestare la centralizzazione delle banche. Invece sembrerebbe che oramai hanno cambiato strada e in un modo o nell'altro si stanno centralizzando al volere delle banche.